Siamo con mister Cirobile dell'Ischia, domenica scorsa fermati sul campo del Ponticelli 1-1, di certo non un bellissimo campo, come è stata la gara? Noi abbiamo sbagliato sicuramente l'approccio alla gara, io purtroppo mi aspettavo qualche cosa in più sin dall'inizio, però ci sono tante attenuanti che potremmo mettere a fuoco, però non è da noi e non è da me recriminare né sul campo né su tutto quello che è avvenuto prima della partita, abbiamo trovato un'altra squadra che giocava prima di noi, poco riscaldamento, ma al di là di questo noi non siamo scesi pronti per disputare al meglio questa gara e nella prima mezz'ora siamo trovati in difficoltà, poi dopo secondo tempo siamo usciti e abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, riuscendo a pareggiare e magari con qualche pizzico di fortuna in più potevamo anche vincere. Ci dobbiamo rimboccare le paniche e disputare il finale di campionato nel migliore dei modi. Domenico arriva il Rione Terra, una squadra che è andata via, rubato anche qualche punto, pareggiando la partita 0-0, una squadra che sta in crescita. Sicuramente, a me dispiace dire certe cose per quanto riguarda i critici di questa squadra e soprattutto su di me. Voglio solo sottolineare che come abbiamo rinforzato noi la squadra l'hanno fatto tutti quanti, specialmente in modo particolare quelli che sono sopra di noi. Quando io ho detto sempre che il campionato iniziava al giornale di ritorno, questo si è avverato e si avvererà sempre fino alla fine.